la canzone italiana torniamo in collegamento con Sanremo con la nostra Antonellina bentrovata ciao Silvio allora ci sentiamo dopo un'oretta come va? una veranda bellissima c'è un panorama spettacolare davanti al posto e a breve siamo in sala stampa per le conferenze che inizieranno dalle ore 14 di oggi perché ormai sono già tutti gli artisti e quindi noi prima stiamo facendo devo dire la verità stiamo guardando il panorama un po' di riprese Dario e stiamo per andare verso il teatro Ariston bello, vabbè la giornata è ottima mi dicevi è una bellissima giornata, a breve ci sono anche delle foto, stiamo aggiornando anche il nostro diciamo diario ogni giorno voglio ricordare che noi abbiamo la missione alla ricerca del poncio Anto parla un pochino più vicino al microfono così ti sentiamo anche meglio per favore ecco io sono vicinissima al microfono alla ricerca del poncio alla ricerca del poncio io voglio capire cos'è questa ricerca del poncio allora vediamo l'arcano mistero che stiamo facendo sorridere anche qui a Sanremo noi abbiamo deciso sia io che Dario che Fabio che dobbiamo dare più visibilità a Maurizio Costanzo che da un paio di anni è stato messo in ombra dalla Maria dei Fizi è bene Maurizio Costanzo, buonasera, benvenuti e quindi siamo in questa missione oltre a parlare con gli assisti, vari ospiti eccetera eccetera noi andremo a salvare Maurizio la missione di Radio Studio 95 salviamo Maurizio Costanzo dalle gringie di Maria la nostra missione è andare a far ritornare ancora più visibile Maurizio Costanzo è una missione un po' difficilossa però a noi le imprese difficili alla fine piacciono tanto io volevo ringraziare alcuni degli sponsor vai, vai pure un legamento e qualcuno lo voglio ricostare tantissimo un grazie particolare anche a chi mi ha curato un po' il look con alcuni prodotti Salvatore Clemente, quindi lo saluto il suo staff meraviglioso a prova marina Isabella Flowers, sempre prova marina e voglio salutare il bar, Cristalla, il Demetrio e tutto lo staff di volta in volta io farò un po' di salute e vari sponsor che mi piace la pubblicità insomma però qualcuno in particolare lo faccio così al volo durante i collegamenti loro in questo caso Isabella Flowers a prova marina che si occupa dei fiori Salvatore Clemente e il Cristalla a merito portosalvo ringrazio perché hanno partecipato affinché noi potessimo essere qui in questa settimana di Sanremo infatti noi li ringraziamo pure perché ci consentono di poter essere a Sanremo o meglio voi di poterci mandare e farci sentire un pochino lì sì, un po' facciamo il profumo di Sanremo di questa meravigliosa cittadina che ospita da 67 anni questa carmesse musicale poi di volta in volta leggeremo anche gli altri che non ci dimentichiamo gli altri sponsor va bene, vi lascio perfetto allora noi torneremo nelle prossime ore sì, ricordiamo che su Studio 95 Melito TV su Facebook, in radio troverete tutti i contenuti direttamente da Sanremo live proprio in questo caso come il nome del nostro programma Antonello, un bacio, saluto a Fabio un bacio sì, Fabio e Dario sono anche qui con me saluto nei prossimi collegamenti ci saranno anche loro con il nostro opinionista che vi darà qualche piccolo insomma lui è un po' quello cattivello che darà i voti al festival beh, poi vi racconteremo che lui ci darà i voti del look del modo di comportarsi delle canzoni poi nelle altre giornate sveglieremo un po' tutto quello che dietro stiamo lavorando un po' per voi perfetto Antonella, un bacione noi siamo in chiusura di puntata ciao Anto un saluto a tutti gli amici ciao ciao ciao